A Vittoria sono stati riconosciuti complessivamente circa 61.000 euro, ma saranno assegnati al Comune solo se lo stesso ha effettuato spese relative al raggiungimento del programma del cosiddetto Patto dei Sindaci. Lo ricorda l'amministrazione comunale, la locale CNA, a dire della quale però risultiamo firmatari sospesi per scadenza terminata, per cui si vuole capire se c'è l'opportunità di rientrare nell'iniziativa. Si tratta di un patto, affermano in coro Giuseppe Santocono e Giorgio Straquadagno, importante per le numerose imprese del comparto costruzioni perché consentono una corsia di accesso facilitato ai finanziamenti europei per quei comuni capaci di progettare e attivare risparmio ed efficienza energetica. Un patto, ricordano ancora Santocono e Straquadagno, che venne firmato nell'ottobre del 2011 a Vittoria con diversi settori interessati, dalla progettazione con servizi di consulenza alla fornitura e installazione di impianti e fonti rinnovabili, passando per i materiali per l'edilizia fino ad arrivare alle diverse soluzioni per l'efficienza energetica. La CNA è adesso però preoccupata non solo per l'ipotetica esclusione dei contributi previsti dal decreto in materia, ma soprattutto per l'esclusione dei contributi europei. E allora chiedono l'UMI a Palazzo Iacono e al sindaco Nicosia in particolare, per capire cioè se ci sono margini per recuperare quello che pare sia andato in fumo.